Ciao, benvenuti a un nuovo video su YouTube Games Oggi siamo in un nuovo vlog Ovviamente come tutti gli altri vlog Lo carico così Appena registrato perché si essenzialmente Ma in ogni caso avrete la mia voce in ritardo Avrete nessun taglio E va bene così Perché non c'ho voglia di renderizzarlo Anche perché questo è un motivo Per cui faccio questo vlog Ma sono dettagli Come tutti gli altri vlog Comunque ci sono delle belle e brutte notizie Tante brutte Ma del bello Comunque sono due Quindi una testa va bene Comunque giusto Allora partiamo con quella brutta Ce la togliamo proprio dalle scatole Essenzialmente ho deciso Che per questo mese Dal 27 Che ho Questo mese Firo al prossimo mese Quindi fino a febbraio I video avranno una programmazione a cazzo di cane Cioè totalmente libera Può una settimana mancare tutti i video Può una settimana essercene tutti E poi una settimana essercene nessuno Qualcuno giusto per Perché questo? Perché voglio fare una prova Non tanto per ora Anche perché youtube ultimamente Fa feed del cazzo Ma anche perché Voglio lasciarvi guardare gli altri video vecchi No Questa è una scusa che usano tutti per dire stronzate Comunque Il fatto è questo Che non ho più il tempo di renderizzare video E renderizzare video mi porta via tantissimo tempo E il tempo che mi è rimasto È rimasto pochissimo tempo E renderizzare video Se mi porta via tantissimo tempo E mi è rimasto pochissimo tempo C'è qualche problema di incongruenza Quindi essenzialmente questo Essenzialmente questo Quindi Visto che non c'è voglia di renderizzare video Vi attaccate un po' per questo mese Poi dal prossimo mese Volevo iniziare una nuova programmazione Che non sarebbe più stata A un video al giorno Ma Un video ogni due giorni Quindi ogni due giorni Uscirà un video Giusto per darmi più tempo Per renderizzarli Visto che il tempo che ho È pochissimissimo Non comincerà da subito Perché prima voglio Avere un mese di tranquillità Giusto per essere Sciallo Comunque Una cosa Che volevo dirvi Per questa promozione È il fatto che Mi darà più tempo Per registrare video E con la nuova programmazione Che arriverà Arriveranno anche nuove serie Anche Potrei farle uscire subito Ma in ogni caso Arriveranno delle nuove serie Tra cui Sono Minecraft Essenzialmente Perché ultimamente Non ci sono giochi Che voglia registrare Per voi Nel senso che Non esistono giochi Belli Da registrare Potete dirmi Qualsiasi gioco Ma non ce n'è neanche uno Potrei fare GTA Potrei fare Call of Duty Ma non c'ho realmente Voglia di giocare A quei giochi Quindi Lasciamo stare E andiamo avanti Essenzialmente Questa è la risposta Che vi dico Comunque però Minecraft Perché ultimamente Ho solo voglia di giocare A Minecraft Giocare a qualche altro giochino Ma i giochini che gioco Di solito Gioco insieme a Final Quindi Se siamo insieme Io e Final Significa che non possiamo registrare Ormai è logica È logica Comunque Quello che voglio dirvi Essenzialmente che I video usciranno A cazzo Dal prossimo mese Usciranno Un giorno Si un giorno No E inizierò Due nuove serie Le due nuove serie Saranno Una Skyblock Creata da me Vedrete come E poi L'altra Volevo portare Una serie diversa Non tanto Sempre Minecraft Però non so Se fare Una serie Sulla nuova 1.8.9 Versione Con le mod E portarvi Una serie magica Con la Towncraft Solo e unicamente La Towncraft Quindi Era un po' Lì lì Nel decidere E poi Volevo Volevo decidere Se Al posto di questa Fare una serie Parkour Vedo che le parkour Ultimamente Vanno di moda E quindi Che ne dite Non so Ditemi voi Se avete mappe Da consegnarmi Consigliatemela Qua sotto Io le farò Le parkour Sono sempre divertenti Anche perché Sono facili Da renderizzare Ve lo assicuro Registrare Registro facile Faccio Preregistro tutto E sono a posto Ho fatto un boom Col gomito Scusate Due volte E in ogni caso Le registro subito Renderizzarle Mi diverto a renderizzarle Perché È tutta Un coso Forse è l'unica Cosa che mi diverto A renderizzare Mappe parkour Anche la Becraft House Mi diverto a registrarle Invece La Slime Rancher Tende a essere Un po' Una rotuta di balle Quindi Vabbè Però porterò Comunque Slime Rancher Continuerò Ho gli episodi Devo Preregistrarli Renderizzarli E caricarli Però Anche la Becraft House Gli episodi Devo renderizzarli E cose Però non ho tempo Quindi essenzialmente Riverranno là E poi Li manderò fuori Quando ci voglio Comunque Quello che voglio dirvi Essenzialmente È questo qua Arriveranno Due serie di Minecraft Quando arriveranno Giochi nuovi Che vi ha voglia Di registrarli Farò qualcosa Ma è molto Molto raro Quindi essenzialmente Ci attacchiamo Un po' Al cacchio Quindi Minecraft Per il momento Va più che bene Ditemi se volete Una mappa parkour Non ho la Towncraft 5 Mi sa che Sceglierete Tutti la mappa parkour Perché volete Vedermi Sclerare E bestimmiare Ma in ogni caso Io non bestimio mai Nella mappa parkour Io mi diverto A fare mappa parkour Anche se Cado 800 miliardi Di volte Mi diverto Dopo un po' Sì Perché sono pirla Però vabbè Sono dettagli Comunque Per questo video È tutto Devo dirvi Altro No Essenzialmente No E niente Vi posso lasciare qui Semplicemente Con Come sempre Iscrivete al canale Naturalmente Da DJ E